musica 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 ben a tutti ragazzi e amici di questo nuovo video sono giodo e siamo nel video del contest dello speciale di natale dei 1000 si dei 1000 coin degli hg quindi allora adesso vi faccio dei partecipanti siete 24 non cagato perchè ho scritto io così a cazzo di cane ok 24 perfetto adesso andiamo a estrarre il vincitore innanzitutto voglio dirvi però prima che ho preferito di estrarre il 24 perchè anzi di domani che sarà 25 perchè molti di voi mi avete detto di farlo prima il video quindi ho preferito accontentarvi quindi adesso andiamo su random.org che è un sito dove mette il numero a caso cioè tu gli dai una quota minima e una quota massima lui te li trova e lui te li da il numero quindi mettiamo minimo 1 che c'è già e massimo mettiamo 24 ok il vincitore dei 1000 coin è il numero 11 che il numero 11 che Filippo Colangelo che è Arce Pro quindi complimenti a Arce hai vinto i 1000 coin di quindi davvero complimenti però non è finita qui quindi ho altri 500 coin cui vi dono così anche a voi quindi adesso facciamo il vincitore dei 300 coin e dopo il vincitore dei 200 così accontentiamo un po' tutti vincitore 1000 coin ok perchè io degli altri non me ne faccio niente qui 500 coin quindi ok il vincitore dei 300 coin è il numero 10 che Mario Occhi Pinti Mario01 quindi complimenti Mario hai vinto i 300 coin il vincitore 300 coin ora l'ultimo che è il vincitore dei 200 coin è il numero 23 vinto Light Power cioè Adam Kuka ha vinto i 200 coin quindi complimenti vinto i 200 coin vincitore 200 coin poi volendo ne ho 89 per 89 sono pochi però dai arrivo fino a 0 ok il vincitore degli 89 coin sono è il numero 1 Ferdi ha vinto 89 coin complimenti Ferdi ha vinto 89 coin lol vincitore 89 ecco ho fatto una cazzata ecco lo sapevo ok vincitore 89 coin quindi adesso vi avviso tutti su Skype subito adesso now ok vincitore Mario che non ho cazzo cazzo il questo Skype che non mi ha dato quindi spero che vi guarda questo video quindi prima di una settimana se non risponde cioè mi non dice nei commenti ci sono ok dimmi quando entrare su Parker che ti do i coin se non c'è se non c'è tiriamo fuori l'altro vincitore dei 300 coin se non si fa vivo Mario altrimenti cinzia rezzo se Mario non si fa vivo in ora secondo 300 coin ok quindi se tu mai non ti fai vivo i coin passano a cinzia quindi 15 poi vediamo ecco qua adesso vi ho ricordato tutti ti ho detto troppo il video per questo video è tutto ci vediamo al prossimo video bella ragazzi sì